Allora, questi due bei ragazzi sono due di un gruppo musicale, vero? Esatto, siamo una band. Allora, di che gruppo siete? In Fieri. In Fieri. E come vai a stare qui alla Rai? Siamo venuti a provare la domenica, perché domani siamo in diretta. In diretta dove? Su Rai 2. Rai 2? No, è 3 o è 5. Bravo. Ah, eeeh... E' 15 e mezzo alle... Come si chiama questo gruppo, non mi ricordo? In Fieri. In Fieri. In Fieri, con l'accetto sulla I. In Fieri. In Fieri. In Fieri. E perché così? In latino vuol dire indivenire. Indivenire, è una cosa che... Allora, vabbè, sono ignorante, quindi... Ci sviluppiamo, cambiamo questo. Avete fatto per questo, per sviluppare, diciamo, l'intelligenza e la... Per far parlare i curiosi. E per la ricordazione, tipo io. Esatto. Esatto. Ok, allora, quanti siete in gruppo? 5. 5. 5. Voi siete due chitarristi, no? Come due chitarre. Il basso, tu? No, la chitarra. No, la chitarra pure tu. Sì, è acustico? No. No, no, elettrico. Ah, elettrico, via, suona elettrica? Tutti e due. Tutti e due. Assolutamente. E quanti siete del gruppo, mi hai detto? 5. 5. Gli altri componenti, come si chiamano? Cantante, bassista, batterista e... E come si chiama? Candida, Alberto e Riccardo. Allora, vi vedremo, mi hai detto, su Rai 2, no? Rai 2, sì. Quando? Dalle 3 e mezzo alle 5. Tutti i giorni in diretta, non dire il venerdì. Ah, tutti i giorni fate? Dall'oledì al venerdì, sì. Ma tutti i giorni... Tutti i giorni, all'oledì al venerdì. Mamma mia, allora sarete forti sicuramente. Ma speriamo di sì. Ok, allora in bocca al lupo e ci vediamo su Rai 2. Assolutamente. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, buon lavoro. Ciao, ciao.